La sindaca Cecilia Francese ha firmato la convenzione che disciplina gli obblighi tra l'ente e la regione a seguito dell'emissione del decreto di finanziamento per il rifacimento della scuola fiorentino. I lavori, pari ad un importo complessivo di poco superiore ai 7 milioni di euro, verranno interamente finanziati dalla regione e prevedono la demolizione dei due plessi scolastici, quello situato in via Pascoli, dove rimarrà un lotto libero, e l'altro in via De Gasperi, dove avverrà la successiva ricostruzione del nuovo istituto comprensivo. Quest'ultimo, suddiviso su tre piani, comprenderà aule sia per la scuola d'infanzia, sia per la scuola primaria e secondaria di primo grado. Previsti inoltre l'installazione di laboratori ed una mensa in favore dei bambini della scuola dell'infanzia. La procedura di affidamento dovrà terminare entro febbraio 2021, mentre il completamento dei lavori non potrà superare i tre anni con decorrenza dall'anno 2019.